Grazie a tutti. Il pericolo di persecuzione derivante dalla militanza nel partito di opposizione deve ritenersi ancora attuale, atteso che, nonostante il Togo stia vivendo un positivo sviluppo di stabilizzazione politica istituzionale a seguito delle ultime elezioni presidenziali, deve tuttavia osservarsi che continuano ad essere molto forti i contrasti politici e parlamentari tra le opposte fazioni, con prosecuzione di intimidazioni e arresti. Grazie a tutti.